Brutto incidente questa sera, sabato 1 settembre, poco dopo le 19, in via Druento a Torino. Due le vetture coinvolte, una Fiat Panda prima serie, condotta da un giovane di circa 30 anni e un Peugeot 207 Session Vagon, guidato da un uomo di 75 anni con a bordo il figlio. Secondo una prima ricostruzione, pare che la Panda stesse svoltando i miei traves di fronte ai campi di allenamento della Juventus quando è sopraggiunto il Peugeot che ha colpito lateralmente la Panda facendola ribaltare. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, il 118 e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza delle vetture. Il conducente della Panda, che ha riportato lievi ammaccature, è stato portato al pronto soccorso per controlli, illesi padre e figlio che si trovavano sul Peugeot. Non è la prima volta che l'incrocio in questione scenario di incidenti e si torna a sottolinearne la pericolosità.